Schierato numero 11 ma in realtà è un centrocampista, l'Austria gioca molto coperta. Ecco un buco e c'è il primo gol di Rummenigge. Il buco è stato di Weber e Rummenigge ne ha subito approfittato per trafiggere il portiere Concilia, impotente a intervenire. Terzo minuto di gioco, Germania già in vantaggio per 1-0. Fortunata la Germania in questa situazione, Weber effettua un rivio molto goffo, serviamo l'azione. C'è la palla che viene spedita verso il centro, Rummenigge la tocca, insegue il pallone, Weber lo spinge male, Rummenigge rapidissimo di esterno. Avete visto bellissimo il suo pallonetto, sempre pronto questo fuoriclasse a sfruttare le occasioni anche più piccole che gli si presentano.